Ermanno Moneoni, la tattica di Rina in Serie C, una grande vittoria, un grande successo per voi, dopo tante fatiche siete riusciti a conquistare la Serie C. Dici parole veramente importanti e vere, noi, è dal 2010, quindi questo è il decimo campionato consecutivo che facciamo al femminile. Tanti sacrifici, tanto sudore, tanti sforzi economici, fisici, mentali e finalmente proprio al decimo anno, perché oggi stanno festeggeremo anche il decimo anno della nostra nascita come società, finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo che, come già detto in precedenza in campo, per noi è un punto di partenza, per il progetto impostato è un punto di partenza. Una grande cavalcata, 15 vittoria in 18 partite, miglior attacco, miglior difesa, avete fatto di tutto, riuscendo a superare Città Dugale, Fiumicino, Viderbo, tutte le altre squadre, per cui siete meritati pienamente questa Serie C. Sì, veramente, ecco, anche i numeri che hai appena detto dimostrano che le scelte fatte ad agosto, le 12 ragazze scelte ad agosto, è stato un progetto vincente. Ci hanno dato ragione, lo hanno dimostrato in campo, l'hanno dimostrato in attacco, in difesa, l'hanno dimostrato con la serietà, con la passione, col sacrificio e soprattutto tanta dedizione agli allenamenti, perché quello che il mister Santoro predicava in questi ultimi anni e oggi la vittoria, per me, oggi insieme alla squadra ha vinto il mister Olimpia Santoro, con tanto sacrificio e tanti tanti allenamenti, perché senza allenamento e sacrifici non si va da nessuna parte.